Non siamo i primi a realizzare un'installazione COA in Italia, ma la nostra è la prima realtà consortile che realizza un'installazione COA significativa per quantità di record che sono interessati nel progetto di migrazione e per quantità di biblioteche che sono impegnate nello stesso progetto di migrazione. Di fronte all'evolversi delle tecnologie la rete non poteva non interrogarsi sulle novità in termini di adozione dei nuovi strumenti di distribuzione, recupero e accesso all'informazione. Con questo progetto volevamo realizzare uno strumento di ricerca di qualità che fosse adeguato alla tipologia specialistica dei nostri utenti. Volevamo adottare un Ilso open source perché crediamo fermamente nella filosofia del libero accesso alle risorse che si lega secondo noi alla natura evolutiva e aperta di questa rete che vuole offrire ai suoi utenti uno strumento tecnologicamente avanzato e soprattutto adeguato alla descrizione e all'accesso alle risorse nate da ambiente digitale. volevamo personalizzare alcune funzionalità del codice che secondo noi sono quelle più adatte, che più rispondono alle esigenze informative delle biblioteche di ricerca. Volevamo un'integrazione tra base dati, COA e S3. Volevamo anche un discovery tool che ci permettesse di migliorare le prestazioni del nostro catalogo. Dunque in questi mesi abbiamo condiviso una visione comune che era quella di offrire al meglio risposte ai bisogni informativi dei nostri utenti e lo abbiamo fatto pensando a quelle che secondo noi sono delle scelte strategiche per la rete. Il nostro catalogo entrerà in produzione solo nel mese di luglio ma pensavamo prima di arrivare a questa data proprio a un momento di confronto con tutte le realtà che hanno già operato una scelta nel senso di adottare un software libero e ovviamente anche nei confronti di coloro che questa scelta non l'hanno adottata perché ci serviva uno spazio di riflessione sui temi collegati a questo progetto che sono i temi dell'open source perché vogliamo che il nostro catalogo sia il più possibile aperto. Vogliamo che si parli di web semantico perché il nostro catalogo deve essere aperto ai nuovi linguaggi del web, vogliamo un catalogo basato sul web che permetta ai nostri dati di essere sempre ricercabili e interrogabili e volevamo appunto un discovery tool che permettesse ai nostri utenti di scoprire tutte le risorse delle nostre biblioteche migliorando quindi le potenzialità della ricerca. Prima di passare la parola ai nostri relatori a Janet Mente, bibliotecaria dell'istituto olandese a cui spetterà il ruolo anche di fungere da mediatrice della discussione. Ringrazio particolarmente il direttore dell'istituto svizzero, il professor Michele Luminati e il responsabile scientifico Philippe Sormani che hanno reso possibile questa iniziativa ospitandoci oggi qui, circondati dalle opere d'arte dell'ABS Art Collection e dai nostri volumi dell'Elvetica. Lo staff dell'ISR che stamattina ha reso la realizzazione logistica di questo evento. Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti nel progetto, a cominciare da Cineca, da Aria, Galeola, Giovanna Contigiani, il gruppo italiano COA dai quali è venuto un forte incitamento alla realizzazione di questo progetto e un ringraziamento ai bibliotecari della rete URBS che in questi ultimi mesi lavorando a stretto contatto hanno dato significato alla collegialità delle decisioni, hanno condiviso esperienze e soprattutto hanno creato un processo virtuoso per quello che riguarda la valorizzazione di tutte le nostre competenze. Questo è il valore aggiunto della rete, questa è la formula che noi pensiamo sia l'unica che ci permetta di affrontare insieme le scelte che si porranno nei prossimi anni. Non ci fermiamo qui, guardiamo anzi con più convincimento di prima alle nuove scelte da fare. L'ultimo ringraziamento, quello per noi più significativo, è a Roswitha Müller, la collega bibliotecaria dell'Istituto Austriaco che ci ha lasciato prematuramente. siamo lieti di ospitare qui la vice direttrice dell'Istituto Austriaco, Ulrike Autscher, perché non potevamo non salutare pubblicamente la collega. Roswitha ha lavorato alla biblioteca dell'Istituto Austriaco per più di un anno, sostituendo Peter Schmidt-Bauer che andava in pensione e ha lavorato con noi su tutta la parte progettuale della migrazione. Veniva da Vienna, aveva avuto esperienze soprattutto nel campo di migrazione, quindi era stata scelta dal Consiglio Direttivo della Rete per svolgere questo ruolo di responsabile e scientifico del progetto. Di Roswitha ricordiamo il rigore con cui approcciava il suo lavoro e le sue competenze che ci servivano in quel momento, quindi purtroppo Roswitha non assisterà alla realizzazione del catalogo, però per noi era doveroso dedicare a lei questa giornata.